Musica Va ritrovata tutto il pubblico di Teletruria per questa puntata speciale di Caffè Bollente Siamo allo spazio Menchetti, ad Arezzo, al Parco Giotto Un'edizione speciale che noi vogliamo dedicare all'undicesima edizione del premio Semplicemente Donna Siamo in una settimana fondamentale, la settimana che ci conduce al 25 di novembre La data scelta per combattere ogni forma di violenza contro le donne E qui ad Arezzo da 11 anni c'è chi sente forte questa tematica e ha voluto creare questo premio Per portare alla luce tante storie Perché non si possa solo parlare ma si possa davvero arrivare al cuore delle persone E si possano finalmente ottenere dei risultati Tra l'altro purtroppo tutto il paese Italia in questo momento sente fortemente questa tematica Per il femminicidio di Giulia Cecchettin Domani in Toscana sarà lutto nazionale Pensate che dal femminicidio di Giulia Cecchettin il 15-22 Il numero contro la violenza sulle donne ha raddoppiato i suoi numeri da 200 chiamate giornaliere Siamo arrivati addirittura a 500 e ancora purtroppo chissà quanto sommerso c'è Per questo esiste il premio Semplicemente Donna Quindi io vado subito a presentarvi i nostri ospiti Anzi le nostre ospiti Partendo dalla vicepresidente del comitato organizzatore Chiara Fatai Un volto conosciuto per i telespettatori di Teletruria Buonasera grazie per averci invitato per darci questo spazio Proseguiamo poi vi presentiamo la prima ospite Noi questa sera avremo tre delle premiate che saliranno sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino Domani venerdì 24 novembre Ormai c'è questo sodalizio con Castiglion Fiorentino che va avanti da anni a condurre la serata Sarà la collega, la giornalista di Sky, Monica Peruzzi Che vi racconterà le storie delle premiate Le storie di queste donne che possono davvero cambiare quella che è la nostra storia Quindi diamo subito il benvenuto alla nostra prima ospite Grazie a Biondi verrai premiata come donna Coraggio Ben trovata a Caffè Bollente Grazie, buonasera a tutti È un premio che in questo momento è duro a riceversi Perché vuol dire che questa società ha fallito Ma è importante però questo premio perché riporta un po' i percorsi Che le donne vittime come me cercano di fare Che non sono solo percorsi con le donne Ma anche percorsi di contrasto a quella che è la violenza istituzionale Perché chiediamoci una cosa Alcune donne che sono state uccise avevano denunciato Quindi vuol dire che questo paese ha un problema di protezione delle donne E c'è anche, io mi occupo di contrasto alla violenza economica La mia storia è una storia di violenza intrafamiliare Una violenza che mai avrei immaginato di poter vivere Una professionista in un ambito diciamo sociale piuttosto tra virgolette colto Ma non è così perché la violenza non c'è correlazione con il grado di istruzione Addirittura è più difficile, più si sale nella scala sociale Diventa un aggravante Sì, perché è più difficile essere credute È per questo che noi vogliamo raccontare la tua storia Tra poco vedremo anche la scheda di presentazione Io vorrei comunque contestualizzare Impossibile che non si conosca il premio Semplicemente donna Harmony Award Chiara, 11 anni fa perché avete fatto questa scelta E voglio anche chiederti perché avete scelto questo avverbio Ho questa curiosità Semplicemente Che è meraviglioso Perché la donna nel suo contesto è semplice Più semplice di quello che si possa pensare Allo stesso tempo però complessa Se devo essere sincera Mi rimane difficile dire perché abbiamo scelto Però è una cosa che Così, ha visto quando le cose nascono di Spontanee Spontanee E questo probabilmente Esatto Questo diciamo il termine semplicemente donna Lo si racchiude nella statuetta Che domani sera le nostre premiate riceveranno Che è una statuetta Raffigurante una donna Che non ha etnia Quindi è una donna che rappresenta Tutte le donne del mondo Quindi una statuetta molto semplice Nel suo stile Che tiene in mano Inclusiva Una sfera di cristallo Di rocca con dentro delle sfumature Che rappresentano le gioie e i dolori Che la donna deve diciamo percorrere nella sua vita Ma anche la sfera rappresenta il mondo La vita perché la donna può dare la vita Quindi ecco Il semplicemente donna è nato da una serie di cose Che insieme si sono riunite Quindi è venuto fuori questo nome E allora approfondiamo la storia di Grazia Biondi Poi parleremo anche di tutte le altre premiate Perché siete bravissimi nel riuscire a rappresentare Quello che è l'universo femminile a 360 gradi C'è ad esempio anche un premio dedicato allo sport Con la ginnasta che ha denunciato le angherie Che ha vissuto purtroppo anche il mondo sportivo Non è esente da forme di violenza Io adesso però mi voglio focalizzare su Grazia Biondi Che è qui con noi Quindi chiedo alla regia Se è possibile di mandare in onda La scheda di presentazione della storia di Grazia Biondi E poi lei ci racconterà il fiore Che è riuscita a far nascere da tutta questa violenza Grazia è una donna che ha vissuto momenti difficili Drammatici Una donna che ha subito violenze di ogni genere Grazia sa bene cosa significhi vivere con il terrore E sotto le continue intimidazioni Proprio da parte di chi assicura di amarti Suo marito l'ha vessata per nove lunghi, lunghissimi anni Costretta a vivere da reclusa nella sua stessa casa Picchiata, insultata, minacciata di continuo Nel 2011, dopo quasi un decennio passato a subire Grazia ha trovato la forza e il coraggio per ribellarsi E ha denunciato il marito Il disagio economico creato dalle situazioni In cui l'ha trascinata il suo ex marito È stato immane Dopo la violenza psicologica e quella fisica L'ha perseguitata attraverso cause e falsi ricorsi E ha usato contro di lei ogni forma di violenza economica Causandole anche la perdita del lavoro Perché lavoravano insieme Da queste situazioni Grazia ne esce distrutta e umiliata Si sente abbandonata anche dalle istituzioni Ma non si arrende E da un'intuizione dà vita ai gruppi AMA Che significano auto mutuo aiuto via web Dove le donne vittime di violenza Professioniste e non Si trovano attraverso i social Si riconoscono e si sostengono laddove il sistema è deficitario I gruppi AMA si fortificano Si evolvono e si trasformano nel 2015 Nell'associazione Manden Diritti civili e legalità L'associazione si occupa di contrasto alla violenza di genere Seguendo le donne nel loro percorso più difficile Quello della denuncia e del post denuncia E soprattutto di sostegno e difesa dalla violenza economica Attraverso percorsi di libertà e indipendenza Come consapevolezza dei propri diritti Proprio per questo Con la sua associazione Grazia si batte per diffondere l'idea Che per una donna La libertà passa anche dall'autonomia economica E dall'alfabetizzazione finanziaria Grazia Biondi verrà premiata domani sera sul palco del Teatro Mario Spina Di Castiglion Fiorentino Come donna coraggio È riuscita ad emergere da quella che era la sua situazione Purtroppo familiare Perché spesso la maggior parte di queste violenze Avviene proprio e sembra incredibile in ambito domestico Avete visto la sua storia È partita con i gruppi di auto mutuo aiuto I gruppi AMA Fino a creare addirittura E vedo la fierezza nel tuo sguardo L'osservatorio nazionale sulla violenza economica di genere Il 12 maggio 2023 è nato Il diritto di contare Il diritto di contare Prova che le vittime, ex vittime Noi ci riteniamo tali Ce la possono fare Io sono l'esempio Ce ne sono tante con me Perché i gruppi di auto mutuo aiuto Sono nati proprio perché Non avevamo trovato il sostegno E non sempre Purtroppo nelle istituzioni E avevamo capito che da qualche parte Dovevamo salvarci E lo abbiamo fatto Siamo diventate 600 in tutta Italia Quindi tutto quello che abbiamo fatto Non è solo merito mio Ma siete arrivate anche in Spagna e in Svezia Sì, addirittura sì Perché la questione della violenza economica Vogliono oggi alfabetizzare le donne Ma le donne hanno bisogno di soluzioni Dobbiamo dire quali sono i vuoti legislativi E andarli a colmare Per questo l'osservatorio interagisce con le istituzioni Perché fornisce dati Sì, fornisce dati Ed è compito delle istituzioni Rimuovere questi ostacoli Noi possiamo solo portarli a conoscenza E far sì che le donne Possano fare percorsi di dignità Di consapevolezza e di libertà Perché una donna indipendente È una donna libera Che cosa chiedete voi alle istituzioni Per combattere la violenza economica di genere Noi chiediamo che sia dato voce un po' alle donne Perché si parla di donne Ma non si parla con noi donne Si parla pochissimo Spesso, ecco, siamo un po' il 25 novembre L'8 marzo Questa manifestazione invece sono venuta Perché il discorso con Chiara È stato un discorso diverso, nuovo Propositivo, concreto Chi siamo, cosa facciamo E dove vogliamo andare I percorsi di libertà Li costruiscono le donne Che hanno vissuto A un certo momento Noi siamo state private della libertà Velocemente Il giorno in cui il mio ex marito È stato messo nelle condizioni Di andare via Io ho aperto tutte le porte Le finestre Le ante degli armari Io ho respirato la libertà E ora è un dovere Morale e sociale Far sì che altre donne La possano respirare Questa libertà Ma che vengano tutelate Dalle istituzioni Nel momento in cui denunciano Concretamente Noi andiamo sostenute Perché poi è difficile Il percorso della violenza istituzionale E il pregiudizio E l'indifferenza Che le vittime vivono E in questo momento Anche quando si arriva Noi ci costituiamo parte civile Nei processi E ci siamo Ovunque In tutta Italia E allora Ricordatevi Il diritto di contare L'osservatorio nazionale Sulla violenza economica Di genere Lei è Grazia Biondi Premiata come Donna Coraggio E la sua associazione Si chiama Manden Diritti civili E legalità La vedrete sul palco Del Mario Spina Di Castiglione Fiorentino Ma avremo ancora Modo di salutarla Ancora qui A Caffè Bollente Rimanete con noi Breve pausa E poi vi raccontiamo Un'altra storia Di donne Siamo tornati Allo spazio Menchetti Siamo al parco Di Arezzo Puntata speciale Di Caffè Bollente Dedicata all'undicesima edizione Del premio Semplicemente Donna Parliamo adesso Di diritti umani Perché abbiamo Un'altra Delle premiate Di questa Undicesima edizione Diamo il benvenuto A Pegga Tasha Cori Che adesso Vive in Italia Ma è un attivista Appunto per i diritti Umani Che viene dall'Iran E quindi Credo che ci sia Bisogno di aggiungere Ben poco Perché tutti Conosciamo Quella che è la situazione Del tuo paese Di origine Tu adesso vivi In Italia Giusto Continui comunque A lottare La rivolta Che è partita Nel settembre 2022 Purtroppo Ha già fatto Tante vittime Però ovviamente Voi non vi arrendete Vuoi raccontarci La tua storia E vuoi dirci Vuoi trasmetterci Come è scattato Dentro di te Il bisogno Di renderti attiva E di aiutare Il tuo paese Poi vediamo Anche la tua scheda Però vorrei subito Darti la parola Prima di tutto Io volevo Studiare Giurisprudenza E nel mio paese Cambiano tutto Non possiamo Studiare Giurisprudenza Come vogliamo Come una donna La donna Non può studiare Può studiare Però i materiali Devono Sono differenti E poi Hanno cambiato Tutto Quindi i materiali Non sono Quelli che Dobbiamo studiare E quindi Ho scelto Italia Sono venuta In Italia In 2019 E poi Sempre volevo Essere Un'attivista E poi Dopo tutto Quello che è successo In 2022 Iniziato Da settembre 2022 A partecipare A manifestazioni Dopo La uccisa Di massa Amini E poi Piano piano 1.500 vittime Sì Però Loro Non mai hanno detto Che c'era Questo numero Però Ci sono Anche più Però probabilmente Sarà una situazione Peggiore Di quella Che abbiamo Delineato Ad oggi E quindi Tu lì Hai sentito Questo scatto Certo Ero solo Da sola Quindi Iniziato Partecipare A manifestazioni Urlando Che Noi Abbiamo bisogno Di sostegno Sostegno Di un'organizzazione Qualcuno Che ci aiuta Qualcuno Che Un'organizzazione Deve Avere Questo sostegno Con noi E Iniziato Così Sei diventata Anche famosa Peraltro Perché tu Hai proprio Lanciato Un grido Di rabbia Disperata In una manifestazione A Roma E hai ovviamente Al Campidoglio Attirando ovviamente L'attenzione Di tante persone È un qualcosa Che ti nasceva dentro Quindi Vediamo subito La storia Di Pegga Tashakori E poi Continuiamo Con lei Ad affrontare Quella che è La situazione In Iran Suo paese D'origine Un'ondata Rivoluzionaria La più grande Dopo quella Del 1979 Ha travolto L'Iran Che da alcuni mesi È protagonista Di proteste Manifestazioni E scioperi È una rivolta Soprattutto dei giovani Le prime vittime Che non accettano più Le dure regole Del regime Kamenei La goccia Che ha fatto Traboccare il vaso È stata la morte Della studentessa Masha Amini Avvenuta Mentre era Sotto custodia Della polizia Morale iraniana Che l'aveva arrestata Perché non indossava In modo corretto Lijab Il velo Le manifestazioni Di protesta In breve Si sono estese Non solo in Iran Ma in tutto il mondo A sostegno Dei giovani E dei loro diritti umani Pegga Tashakori È una giovane Donna iraniana Di 30 anni Originaria di Teheran Che vive Da qualche anno In Italia Per studiare Giurisprudenza All'Università La Sapienza Di Roma Dopo quello Che è successo In Iran E soprattutto Dietro l'omicidio Di Masha Amini E di altre giovani Donne e uomini Che si erano opposti Alle severe leggi Del regime È diventata Un'attivista Dei diritti umani Al grido Di donna Vita Libertà Anche lei Ha preso parte Al presidio Di solidarietà Organizzato Da Amnesty International In piazza Del Campidoglio A Roma Per sostenere Le rivolte Delle donne iraniane Che si oppongono All'obbligo Di indossare Il velo E la cui repressione Da parte Delle autorità Del regime Ha causato Decine di morti E centinaia Di feriti Per le celebrazioni Dell'8 marzo Al Quirinale Alla presenza Del presidente Sergio Mattarella E delle più alte Cariche dello Stato Pegatashakori È stata elogiata Per il suo impegno A sostegno Delle donne iraniane E allora Abbiamo menzionato In questa scheda Amnesty International Che per l'appunto È un'ansa Proprio di questo Pomeriggio Oggi Ha denunciato I gravi rischi Per la salute Di Narges Mohammadi Premio Nobel Per la pace Una tua collega Un'altra attivista Che purtroppo È in carcere E è stata sottoposta A delle misure In carcere Peraltro a dei problemi Di salute Non è stata sottoposta A nemmeno A dei controlli Medici Una situazione Purtroppo Ben nota Però oggi C'è l'ulteriore Appello Di Amnesty International Come vive Una donna Oggi In Iran Cosa combattete Voi Essere una donna In Iran È essere In una lotta Ogni giorno È lotta Camminare in strada È una lotta Studiare È una lotta Lavorare È lotta Prigione Essere in prigione È lotta Perché il problema Le donne in prigione In Iran Non hanno Accesso Per prodotti Ligeni Nessuno parla di questo Quindi vogliono Dire che Sei una donna Quindi noi Fiamo Il miglior I diritti È come carcerata Rispetto a un uomo Esatto Quindi anche l'igiene Personale diventa un lusso Esatto E poi voi Ovviamente Lottate contro L'abolizione Dell'obbligatorietà Dell'hijab Certo Voi quindi Dovete andare Per strada Con il volto coperto C'è un video Che sta circolando Di una ragazza Che si è Sciolta i capelli Per strada E che danza È un video Proprio Di questi giorni Questo Bisogno appunto Di manifestare Per quello Che per noi È chiara La normalità La normalità Anche noi Lottiamo Per i nostri diritti Questi sono I diritti basilari Che vengono negati Quindi ecco Lei rappresenta Un baluardo E voi La portate Non solo Nel palco Del teatro Del teatro Di Castiglione Fiorentino Ma anche Nelle scuole Perché la vostra missione È proprio quella Di parlare Ai ragazzi Dando un esempio Beh infatti In questi giorni Dove L'opinione pubblica È tutta concentrata Sul fatto Devo dire Raccapricciante Della morte Di Giulia Cecchettin Dove La politica L'opinione pubblica L'informazione Si battono Affinché Nelle scuole Ci sia Educazione Ci sia Questo Parlare con i giovani Beh noi Sono 11 anni Che lo facciamo Quindi abbiamo Forse Precorso i tempi Siamo stati Più lungimiranti Non lo so Il nostro obiettivo Era stato quello Di creare La mission Nella mission Cioè Quindi Parlare di violenza Ma Parlarne Con Le nuove generazioni Quindi Andare nelle scuole Sensibilizzare I giovani Fare Una cultura Di cultura Perché Sappiamo Che Il problema Della violenza Nelle donne Come La lotta Per i diritti umani Come La parità di genere È una questione Culturale Quindi bisogna Veramente Fare cultura Dare Una svolta Lo si può fare Solo Lavorando Sulle nuove generazioni Sulle Menti Che sono ancora Plasmabili Che hanno ancora Come rispondono questi ragazzi Come reagiscono Benissimo Devo dire Che Noi siamo Orgogliosi Di quello Che siamo Riusciti a fare In questi Undici anni E Ce lo dimostra Il concorso Di borse di studio Che abbiamo Ideato Da tre anni A questa parte Dove Escono dei lavori Bellissimi Con una profondità E una Ricercatezza Indescrivibile Tant'è vero Che domani sera Noi nel palco Del Mario Spina Daremo spazio A due dei lavori Che sono stati Presentati Quest'anno Al primo Classificato Che è Un lavoro Presentato Dal liceo Piero della Francesca Di Arezzo E al secondo Classificato Che è stato Presentato Dall'Istituto Vegni Delle Capezzine Dove Uno studente Ha realizzato Cantato E musicato Una canzone Sul tema Della violenza Alle donne Coinvolgendo I suoi compagni Di classe Nella realizzazione Di una videoclip Quindi noi veramente siamo Cioè per noi il premio Ragione ad esistere Solo perché Facciamo questa azione Di cultura Nelle scuole Quest'anno peraltro Vi siete anche Ampliati Come spettro di azione So che coprite Gli istituti Di tutta la provincia Di Arezzo Però insomma Se ci sono All'ascolto In questo momento Dei dirigenti scolastici Che vogliono partecipare L'appello è quello Di contattare Il comitato organizzatore Perché Loro non si stancano E non si fermano mai Quindi sono a vostra disposizione E avere In classe Personaggi di questa caratura Che possano parlare Con gli studenti Sicuramente È un valido esempio Perché Come sapranno anche i professori Si impara molto di più Con l'esperienza Che con i libri Però i libri servono Per l'istruzione Quando tu sarai avvocato Che cosa farai Per il tuo paese? Io mai Voglio smettere Io sarò Loro voce Oggi Domani Dopodomani E io Sempre ho questo Slogan per me E Penso che loro Hanno bisogno Di voce Loro hanno bisogno Di qualcuno Che parla di loro Ovviamente Abbiamo anche bisogno Di sostegno Di altre organizzazioni Che ci aiutano In questo Periodo E allora Grazie a Pega Tasciacori Che ci ha raccontato La sua storia E siamo sicuri Siamo certissimi Che continueremo Ancora Sentiremo parlare di te Noi ci fermiamo Tra poco Torniamo Con un'altra storia Per l'undicesima edizione Del premio Semplicemente donna Caffè bollente Teletruria A tra pochissimo E siamo tornati Allo spazio Menchetti Ad Arezzo Puntata speciale Di caffè bollente Dedicato al premio Semplicemente donna Peraltro Menchetti Cara Chiara È un partner storico Del vostro percorso Esatto Ecco Quindi molto volentieri Noi siamo qua Con la terza ospite La terza donna premiata Una donna che sostanzialmente È un pezzo Rappresenta un pezzo Della storia italiana Perché Diamo il nostro benvenuto A Tina Montinaro Che è la moglie E ci teniamo a sottolineare La moglie Di Antonio Montinaro Che purtroppo Non è più con noi Perché Antonio Montinaro È rimasto ucciso Nella strage di Capaci Era nel 1992 Il 23 maggio Era con il magistrato Giovanni Falcone Io credo che Molte delle persone Che ora stanno guardando Questo programma Si ricordino esattamente Dove erano Quando il mondo Ha saputo Quello che è successo Tina Tu dove eri? Io stavo a casa Con i miei due bambini Perché avevamo due bambini Piccolissimi E quindi Stavo a casa Però Non l'ho visto Dalla tv Mi ha avvisato A casa Un'amica Comune E però Lei voleva sapere Solo dove stava Antonio Ma io non glielo dissi Perché Antonio Non voleva Che io Insomma A telefono Parlassi dei suoi spostamenti Per una questione Di sicurezza E quindi Dissi che Stava fuori Con i bambini E lei mi disse No Perché c'è stato Un attentato Al dottor Falcone E tu così Hai saputo E così Io ho saputo Però Cioè Poi per parecchie ore La convinzione Insomma Che mio marito Fosse solo ferita Perché poi La speranza Ma io ero proprio convinta Di questo Perché Capito Non Non sapevo Non avevo ancora Sentito niente E la televisione Era spenta Anche quando sono andata In questura Mi hanno chiuso In una stanza Però io poi Lo capisco dopo Del perché Non Mi dicevano nulla Perché di fatti Non trovavano La macchina Cioè La prima macchina Dove dentro C'era Antonio Vito E Rocco E' stata trovata Dopo Grazie per aver ricordato Anche i colleghi Che erano presenti Con lui Ovviamente Tu riceverai il premio Impegno Sociale E Civile Guardiamo insieme La scheda Anche se Ovviamente Tutti conosciamo Molto bene Appunto Questo pezzo Di storia italiana Tina E' una palermitana Doc Una palermitana Che ha trovato Come ha sempre Sostenuto Il conforto E la vicinanza Dei palermitani Tina E' una persona Diretta Non ama I giri di parole Ma preferisce Dire in faccia Le cose che Pensa Tina Martínez Montinaro E' la vedova Di Antonio Caposcorta Di Giovanni Falcone Assassinato Nella strage Di Capaci Il 23 maggio 1992 Quarto Quarto Savona Quindici Era il nome In codice Usato Per la Fiat Chroma Blindata Che fu colpita In piano Dalla deflagrazione Di circa 500 kg Di tritolo Allo Svincolo Di Capaci Saltando In aria Insieme Alla macchina Di Giovanni Falcone E della moglie Francesca Morvillo Quarto Savona Quindici E' anche Il nome Dell'omonima Associazione A cui Tina Ha dato vita Dopo la morte Del marito Da cui ne Conseguono Tutt'oggi Incontri Con ragazzi Scuole Detenuti Attività Di Ordine Sociale Perché la memoria Serve per dare un nome E un cognome Alle vittime Di mafia Per dire no Alla mafia Al fine Di fare cultura Di legalità E di giustizia Nonostante il dolore Non si è mai arresa E il suo obiettivo E' sempre stato quello Di far conoscere a tutti La storia di suo marito Del magistrato Falcone Di quegli anni di piombo Recentemente Ha scritto un libro Dal titolo Non ci avete fatto niente Dove racconta Che quanto più il tempo passa Quanto più si rende conto Del grande uomo Che aveva avuto accanto Un grande poliziotto Che con le sue scelte Le aveva dato modo Di camminare a testa alta Assieme ai suoi figli In giro per l'Italia Per organizzare incontri E parlare ai giovani Per avviarli Ed educarli alla legalità Tina c'è una frase Che tu hai detto Che riassume Tutti questi anni Il tuo impegno Sociale civile Per il quale appunto Riceverai il premio La mafia delle stragi Ha perso Questo tu hai detto Ebbene ha perso Si sono date la zappa Sui piedi Lo Stato ha dovuto reagire E quindi Li hanno resi immortali Hanno fatto in modo Che i palermitani Alzassero la testa Perché finalmente Perché finalmente Cioè A qualche tempo prima Non si parlava di mafia La gente si chiudeva dentro Si girava dall'altra parte Nemmeno la parola si pronunciava No non si pronunciava Ma nemmeno nelle proprie case Ecco E quando uccidevano un poliziotto Se l'è cercata Ha detto Quindi Invece da quel Da quel momento Sono venute fuori Tante associazioni I ragazzi gridano No mafia Ci sono state tante denunce Sono cambiate tante cose E' chiaro Non sto dicendo Che la mafia E' stata sconfitta Perché abbiamo ancora Tanto lavoro da fare Però insomma Abbiamo La bella gente E la bella società Dalla nostra parte Vedi qualcosa di diverso A Palermo E in Sicilia Negli ultimi anni? I giovani I giovani Sono diversi Noi a 31 anni Che andiamo nelle scuole Andiamo a parlare Di quello che è successo Cioè a Palermo Non abbiamo avuto Solo le due stragi A Palermo Si contano 5.000 morti Per mano mafiosa Quindi è chiaro Che non solo a Palermo Ma in tutta la Sicilia Quindi è chiaro Che i nostri giovani Devono sapere questo E devono essere migliori Dei loro genitori E anche dei loro nonni Se vogliamo vincere La battaglia Quindi Noi dobbiamo informare Di fatti Che cosa è successo Nella nostra Sicilia Io la ritengo La ritengo mia Mio figlio Giovanni È palermitano Io sono rimasta lì Proprio perché La mia presenza Deve dire tutto Anche senza aprire bocca La tua presenza Perché sono I mafiosi Che se ne devono andare Dalla Sicilia Non siamo noi Noi Almeno io Sono la moglie Del poliziotto E continuo a restare In quella città Dopo queste parole Devo dire Chiara Che c'è poco Da aggiungere Anche se io vorrei Leggere Uno stralcio Di quelle che sono Le parole Di tuo marito Perché mi sono piaciute E credo Che rappresentino Davvero L'Italia migliore Se accetti Questa definizione Io scorto Un uomo Ad altissimo rischio Un uomo Che ha dato a molti La possibilità Di credere Nel futuro Non lo farei Se non avessi La massima fiducia Nei suoi confronti Ho messo La mia vita A rischio Per lui Perché è uno Dei pochi In cui credo E che mi permette Di stare bene Con me stesso Lo scorto Perché sono sicuro Che sia onesto Queste sono le parole Di un eroe Se mi permetti Io lo vorrei definire così Ma a me Queste sono parole Che ha detto Ovviamente in vita E che a dieci giorni prima Ecco Lui era consapevole Lui era consapevole Di quello che poteva accadere E non ha fatto Un passo indietro Quindi io Più che eroe Lo definirei Un poliziotto Coraggioso Che ha fatto Il proprio dovere Perché ultimamente Anzi Sono anni Che forse la gente Non sa fare Il proprio dovere Ecco perché ci troviamo In questa situazione In questa situazione E io non lo definirei Ma nemmeno io Mi definisco Vittima Perché lui è morto Con una dignità Che pochi uomini hanno E quella dignità L'ha trasmessa a noi E ci fa camminare A testa alta Quindi di quale vittima Stiamo parlando Sono gli altri Che sono le vittime Le persone che non sono coraggiose Sono le vittime Chiara Voi portate appunto Una parte della storia italiana Nelle scuole Magari tanti ragazzi Non erano nati Nel 1992 Però sono sicura Che avere Un personaggio Che racconta Questo Li tiene incollati I ragazzi Hanno bisogno Di sentirsi Raccontare In prima persona Storie di vita vissuta Ma non solo i ragazzi Anche noi Nel senso Tutte le notizie Che leggiamo Nei giornali O vediamo Alla televisione Dopo qualche giorno Spariscono Ci scivolano addosso Vedere Una persona Che ti guarda Negli occhi Ti racconta La sua storia Ti racconta Le sue emozioni La sua battaglia Le sue esperienze È tutta un'altra cosa Perché ti rimane Incollata addosso È questa È questa la bellezza Degli incontri Che noi facciamo Con i ragazzi Perché Hanno la possibilità Di stringere la mano A queste donne A queste persone A queste storie E sono queste le cose Che Gli lasciano veramente Un insegnamento importante Che siamo semplicemente donne Siamo semplicemente donne Ecco fatto Ecco l'origine appunto Del nome La scelta era perfetta Tina Cosa ancora hai da fare Cosa vorresti ancora fare Io Ho sempre tanto da fare Anche solo Solo Tra virgolette Andare in giro Per tutta Italia Insomma Oggi sei ad Arezzo Quindi Sto di continuo Non è poco Ecco Non è Non è poco Che cosa vorresti Quale contributo Ancora vorresti dare C'è qualcosa Che ti rimane da fare No Veramente Mi aspetto Di vedere Più che altro Più che fare Perché io più di quello che faccio Insomma Mi sembra impossibile Cosa ti dobbiamo chiedere Però Insomma Vorrei sicuramente Avere Una giustizia Piena E Vorrei Che Tutte queste donne Che denunciano Che venissero Veramente Tutelate Anche perché Io penso Che Le famiglie Sono fatte Dalle donne Quest'Italia Secondo me La mantengono Il coraggio Delle donne E quindi Vorrei Sicuramente Più tutela Ma per Tutti quanti Tutte Tutte queste donne Che attraversano Insomma Queste cose Veramente Orribili Grazie allora A Tina Montinaro Anche lei Domani Sarà a ricevere Il premio Impegno Sociale E civile Quindi Grazie Soprattutto A te Noi ci fermiamo Ma torniamo Poi per la parte finale La chiusura Per darvi Ancora appuntamento A Castiglion Fiorentino Con il premio Semplicemente Donna Undicesima edizione A tra pochissimo Rimanete con noi Su Teletruria E siamo rientrati Questa è la parte finale Di questa puntata Speciale Di Caffè Bollente Dedicato al premio Semplicemente Donna Siamo ancora con Chiara Fatai Per l'invito Finale A partecipare Domani sera E abbiamo Una quarta ospite Che rientra In quello che è L'albodoro Di queste 11 edizioni Grazie Per essere venuta A Chiara Frazzetto Tu sei Donna Coraggio 2021 Hai già raccontato Al premio Semplicemente Donna Quella che è La tua esperienza Di vita E continuiamo Sulla scia Parliamo ancora di mafia Purtroppo Una realtà Della nostra Italia Tuo padre E tuo fratello Sono vittime Di mafia E purtroppo La tua famiglia Ha risentito Pesantemente Di queste conseguenze Perché tua madre Non ha potuto Reggere Ovviamente A questo Grande dolore La tua testimonianza È proprio quella Di raccontare Come si vive In Sicilia In Sicilia Bisogna alzare la testa In Sicilia Bisogna alzare la schiena E guardare E guardare Sempre avanti Ma soprattutto Non arrendersi A una mentalità Mafiosa E non arrendersi E non scappare via Dalla nostra Magnifica Sicilia Ma cerchiamo Di cambiarla Negli anni Ci stiamo riuscendo Hai mai avuto Un momento Di debolezza In cui hai detto Mollo tutto Quanto meno Voglio rifarmi una vita Voglio cambiare Luogo Voglio andare a vivere Da un'altra parte Voglio cambiare Completamente La mia esistenza Mai avuto Un attimo Di debolezza In questo senso No Io non sono mai Voluta andare via Dalla mia Sicilia Fin dal primo momento A me mi avevano proposto Un programma di protezione Che ho rifiutato Perché io non avevo Ucciso nessuno Io non dovevo andare via Dalla mia Sicilia E considera che io Avevo solo 21 anni Quando è successo Il caso dei miei genitori Ed ero una ragazzina Che era rimasta sola Però io non potevo Dargliela vinta Io non avevo ucciso nessuno Non dovevo andare via Io Erano loro Che dovevano cambiare città Cosa che non è stata fatta Anche perché Due anni fa Io ho scoperto Che uno dei criminali È uscito dal carcere Ma io Non mi sono scalfita Nemmeno di un millimetro La mia posizione Non cambia Come oggi Nel 2023 Si devono muovere Le istituzioni Ovviamente Non possiamo pensare Di ribaltare La situazione Da un momento all'altro Purtroppo Ancora ci vorrà tempo Ma Cosa chiedi Concretamente Tu Alle istituzioni Perché tu hai diritto Di chiedere Lo abbiamo tutti Forse tu ce l'hai ancora di più Non dobbiamo chiedere Soltanto alle istituzioni Dobbiamo chiedere Ai cittadini Di denunciare Cambiare i menti Di ribellarsi Perché non possiamo dare Sempre la colpa Alle istituzioni Io chiedo però Perché mio padre Ha pagato con la propria vita E con la vita Di suo figlio Dobbiamo cambiare mentalità Ognuno di noi Può cambiare le cose Lo dobbiamo volere E dobbiamo andare Fino in fondo Perché sicuramente Non basta alzare la testa Non basta un gesto Dobbiamo continuare E sicuramente L'unione in questo Fa la forza Hai trovato Un contesto Comunque In cui c'è Chi lotta E questo è Il caso appunto Del premio Semplicemente donna Non ti chiedo Di raccontarci Tutto l'albo d'oro Perché lo possiamo Anche facilmente trovare Però ovviamente Scorrendo questo albo d'oro Si trovano Tanti nomi Come quello Di Chiara Frazzetto Ogni nome È una storia Ogni storia Non ho spaccato Di quello che è avvenuto E voi tenete alta L'asticella Se devo essere Diciamo Sincera Per me Sono tutte storie Che mi lasciano Dentro Qualcosa di importante Ma anche Delle ferite Delle ferite profonde Io scrivo i testi Delle clip Le realizzo Quindi quando loro Arrivano Io le ho già Dentro la mia pelle Le ho già Dentro Dentro di me Le ho vissute Quindi per me Rimane difficile Dire Chi mi ha Colpito di più Ecco Se devo Da donna Se devo pensare A chi mi ha colpito Di più Nel corso Nel corso di questi anni È stato Il premio Sakharov Ora non mi ricordo In che anno È stata premiata La mia Jibashar Che era una ragazza Iraqena Di natura Kurda Che è stata Fatta Prigioniera Dai terroristi Dai terroristi Dell'Isis Ed è stata Per mesi e mesi Schiava Del sesso Di questi terroristi E è riuscita A scappare Per una distrazione Di un terrorista Ma ne è uscita Martoriata Ancora porta Nel viso Le ferite Delle scicche Di sigarette Che questi Assassini Questi animali Si divertivano A spengerle in faccia Ecco La sua è stata Una storia Che mi ha colpito In quanto donna Perché noi donne Dobbiamo essere Gelose Del nostro Io Del nostro corpo Quindi pensare Che sei alla mercè Di chissà chi E di chissà quanti Ti mette Veramente In una condizione Di disagio Anche se non L'hai vissuta tu Ma ti immedesimi In quella cosa Ecco Questa è stata Una cosa Che mi ha segnato Veramente tanto Però sono tutte storie Sono tutte storie Che hanno la loro dignità Ovviamente Che hanno il loro spessore E vorrei chiederti Chiara Visto che siamo In conclusione Visto anche Tutto quello Che hai vissuto Le storie Che tu E il comitato Organizzatore Avete raccontato Visto quello Che stiamo vivendo Visto il femminicidio Al quale purtroppo Abbiamo assistito Purtroppo Ogni giorno Sentiamo Queste forme di violenza Anche qui Ad Arezzo Abbiamo avuto Un doppio Femminicidio Quindi conosciamo bene Questa storia I numeri È inutile Ora elencare i numeri Perché purtroppo Sono numeri devastanti Che peraltro Vengono ripetuti In questi giorni Forse anche In modo esacerbato Facendo spettacolo Secondo me Purtroppo Andando a cercare L'aspetto Con la rietà Sfruttando anche Lasciami dire Usare questa parola La uso io Sfruttando queste situazioni Il dolore anche Delle famiglie Esatto Dobbiamo pensare Che c'è anche Chi rimane Che deve affrontare Anche le conseguenze Però io vorrei Che tu ti rivolgessi Alle ragazze Che ben conosci Alle ragazze Che stanno crescendo E che magari Si trovano Invischiate In storie Che hanno già Dato dei segnali No? Quei segnali Sentinella Come si suol dire Perché Loro qui Si devono sbloccare È proprio questo Il momento Di capire Quando è il caso Di chiedere aiuto Non avere paura Di chiedere aiuto Quindi procedere Con la denuncia Continuare Ad avere coraggio Purtroppo Anche dopo la denuncia Perché in generale In tutte queste storie Si vive E si percepisce Si vede Un disagio Anche nel momento In cui si è riuscita Ad avere coraggio Quindi ecco Vorrei che tu Riuscissi ad arrivare Alle corde Di queste ragazze Perché anche se Arrivassimo ad una sola Noi stasera Abbiamo già fatto qualcosa Esatto Ma io ti posso dire Per esperienza Che le corde A queste ragazze Le toccano Le premiate Che raccontano Le loro storie E nel corso Di questi 11 anni Di questi incontri Con le scolaresche Noi ci siamo trovati Più di una volta A vedere Delle situazioni Che hanno fatto capire Alle insegnanti Alle dirigenti Scolastiche Che c'era bisogno Di intervenire E l'obiettivo Del premio È proprio questo Poi è vero Anche che Non è sempre Facile Stimolare A denunciare O a Farsi A farsi avanti Però le cose Che io sento dire Dalle premiate Che hanno subito Violenza È quella di dire Se nel vostro entourage Di amici O conoscenti O parenti Vedete che qualcosa Non va Non ritiratevi indietro Non abbiate paura Di essere invadenti Siate invadenti Perché queste donne Hanno bisogno Di capire Che c'è qualcuna Che la vuole aiutare Perché finché Non hanno un segnale Una mano tesa Non hanno il coraggio Di salire Quelle tre scale O dieci scale Che le porta Dalla polizia O dai carabinieri Perché quando una donna Fa quel gesto Vuol dire che Prima ci sono state Tante altre situazioni Che lei ha sopportato Quindi nel momento In cui decide Di pensare a se stessa Quindi non preoccuparsi Più di quello Che lascia in famiglia Vuol dire che Il vaso è pieno E quindi bisogna intervenire Ma soprattutto Bisogna intervenire Noi Nel capire Che l'amica La parente La sorella La cugina Ha bisogno di una mano tesa E quindi intervenire E allora siamo Tutti e tutte Sentinelle Dobbiamo esserlo Chiara vedevo che Annuivi Voglio lasciare L'ultimo minuto Alle tue parole Voglio che anche tu Guardi dritta La telecamera E ti rivolgi A chi ci sta guardando Perché le parole Sono potenti Io mi rivolgo Alle ragazze Che magari Non capiscono Di non andare All'ultimo appuntamento Perché l'ultimo appuntamento Può essere fatale E di non fidarsi Di denunciare Se ci sono delle cose Che non vanno Nel rapporto Ma soprattutto Di scappare Non dare l'opportunità Una seconda opportunità A questi uomini Uomini che sono vicini a noi Uomini che I dati Lo dicono Non sono degli sconosciuti Spesso sono nella stessa casa Delle donne Spesso sono i compagni Sono i mariti O comunque Chi ha una relazione Un legame con loro Quindi diventa ancora più subdolo Diventa ancora più difficile Però qui abbiamo raccontato Il coraggio delle donne Quindi noi non ci arrendiamo Loro non si sono arrese E sono davvero un faro Un esempio Facciamo che queste parole Siano concrete Io anche lo scorso anno Ho voluto terminare Questo spazio Con le parole Di chi è Molto più famoso Di me Ovvero Martin Luther King Le prendo in prestito Perché le avete scelte Voi Del premio Semplicemente donna Non ho paura Delle parole Dei violenti Ma dei silenzi Degli onesti A dire il vero Io ho anche paura Delle parole Dei violenti E' per questo Che le dobbiamo contrastare E lo possiamo fare Con il coraggio Che comunque Ci appartiene Siamo arrivati Al termine Di questo appuntamento Il premio Semplicemente donna Sarà comunque Su Teletruria Nei prossimi giorni Vi informeremo Sulla programmazione Sarà un onore Per noi Poter dare Un contributo Grazie Dunque A Chiara Fatai Che ogni anno Viene a raccontarci Il suo Impegno E l'impegno Del comitato Grazie A Chiara Frazzetto Grazie per esserti Unita a noi Grazie a tutto il pubblico Di Teletruria Grazie Ai nostri Tecnici Premio Semplicemente Donna Castiglion Fiorentino Il coraggio Delle donne Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti